Un sito a questo paese e dopo ci parte da provinciale e dopo ci parte da nazionale e poi i politici italiani devono pensare per i vostri giovani perché i giovani sono abbandonati Oh, grazie, grazie a voi Grazie mille, mi nasce il tuo numero che ti manda un'intervista? No, no, è perfetta, andava benissimo, grazie, 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 scusa Scrivo Kebabbaro Poggio, va bene, tu non so qua del chiamato Sì, ma io ho anche la pizzeria Ok, ti chiami? Asla Asla Potrebbe fare una bella foto, si può fare la foto? Sì Con loro Con loro Quello lì sei tu, vero? Sì Aspetta, eh Basta Grazie 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 Sì Grazie Grazie a tutti.